Ragazzi buonasera a tutti e bentornati su Crypto Salad, io sono Federico, è il 20 febbraio 2023, Bitcoin 24.800 dollari, quindi Bitcoin sta provando a violare la resistenza dei 25.000 dollari, siamo ormai arrivati al terzo tentativo, approfittiamo della momentanea stabilità del prezzo di Bitcoin per guardare più da lontano alcune chart di analisi tecnica, guardiamo anche alcuni grafici di dati on-chain che si sono modificati nelle ultime settimane a seguito dei rialzi del mercato e poi commentiamo insieme alcuni tweet freschi di pubblicazione, quindi se vi sembra interessante lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale, cliccate la campanella per le notifiche, lasciate i vostri messaggi, guardate anche il referral link in descrizione, in particolare Bybit se non aveste ancora un account utilizzate il referral link di Crypto Salad. Ragazzi guardiamo Bitcoin, qua siamo sul time frame dei due mesi, quindi un time frame molto lento che però è in grado di identificare cambi di trend di lungo termine e voglio portare alla vostra attenzione un incrocio in arrivo alla chiusura del mese di febbraio, quindi da 8 giorni e 7 ore all'incirca. Sto parlando di questa candela bimensile che è iniziata appunto il primo di gennaio 2023 che andrebbe a confermare un importante incrocio rialzista sull'indicatore che vedete qui sotto che si chiama Stochastic RSI. Quindi siamo in questa chart che si chiama BLX, quindi una chart che addirittura va indietro fino al 2010, luglio 2010 per Bitcoin, che sta per confermare il terzo incrocio rialzista sul time frame bimestrale dell'indicatore Stochastic RSI. Quindi con la linea blu, quindi la media mobile blu, quella più veloce, che passa al di sopra di quella arancione. E nei precedenti episodi, quindi nei precedenti casi in cui c'è stato questo incrocio, effettivamente guardate qui il bottom era già stato raggiunto ed eravamo pronti per iniziare un uptrend di lungo termine. Chiaramente ragazzi, come tendo a specificare, se il time frame dei due mesi è bullish, questo non vuol dire che non si possano vedere ritracciamenti sul time frame giornaliero, ma anche su quello settimanale o anche su quello delle due settimane. E quindi è importante comprendere che in un uptrend ci sono logicamente dei ritracciamenti, così come in un downtrend ci sono a loro volta dei bear market rally. E vedete che questo indicatore è stato anche, bene o male, in grado di identificare la vicinanza al top del ciclo, sia nel 2017 che anche nel 2021. Ragazzi, poi guardiamo il time frame settimanale, c'è quest'altro strumento che si chiama bull market support band, quindi spesso ci si chiede come si può identificare se siamo in un bull market o in un bear market. Si possono usare diversi strumenti, delle medie mobili che qui sono accorpate in questo strumento, bull market support band, che ci dice che quando il prezzo di bitcoin è al di sopra di queste due bande, possiamo confermare di essere in un bull market, quindi le probabilità che il prezzo salga sono più alte rispetto a che il prezzo scenda, viceversa quando siamo al di sotto delle bande siamo potenzialmente in un downtrend. Quindi se siamo sotto le bande downtrend, se siamo sopra le bande siamo in un uptrend, ovviamente cambia a seconda del time frame su cui si va a guardare. Questo tipo di indicatore sostanzialmente funziona meglio sui time frame di lungo termine. Come vedete chiaramente questo strumento è stato in grado di identificare prolungati bear market con poi violazione delle bande e bull market. Anche qui abbiamo violato le bande e abbiamo dato origine ad un importante bull market. Lo stesso vale per il precedente bear market iniziato direi con il dump di novembre 2021. In questo momento vedete chiaramente che siamo al di sopra delle due medie mobili, quindi la possibilità, le probabilità che il prezzo continui a salire sono superiori rispetto a quello di vedere eventualmente un ritracciamento al di sotto delle bande che dovrebbero fornire eventualmente supporto. Ragazzi poi passiamo ai dati on chain, c'è questo indicatore che si chiama bitcoin stable coin supply ratio oscillator, vale a dire la quantità di stable coin che sono presenti sul mercato in proporzione alla quantità di bitcoin. Questo vuol dire che più aumenta la quantità di stable coin più le persone stanno uscendo dal mercato quindi vendendo bitcoin aumentando la supply delle stable coin, viceversa quando diminuiscono le stable coin vuol dire che in particolare si sta entrando nel mercato. Perché può essere utile come strumento? Perché a volte questo tipo di movimento può essere anticipato da delle divergenze. Vedete che chiaramente il prezzo è salito in maniera molto importante da inizio anno, vedete anche come il quantitativo di stable coin sia notevolmente ridotto o comunque l'indicatore sia salito moltissimo. Questo vuol dire che le stable coin sono entrate nel mercato per dare origine a un pump del prezzo, ma quello che poteva anticipare questo tipo di movimento erano delle divergenze. Vedete per esempio qui abbiamo il prezzo di bitcoin che scende e crea dei lower low 1 e 2, mentre abbiamo l'oscillatore che crea chiaramente degli higher high. Questo vuol dire che il prezzo è sceso, ma il quantitativo di stable coin è inferiore. Questo vuol dire che gli investitori stanno comprando bitcoin tra virgolette tra le righe. Mentre se vediamo qui durante questo top, il primo top del bull market, vedete che il prezzo resta stabile mentre l'indicatore scende. Questo vuol dire che il quantitativo di stable coin sta aumentando e quindi diversi investitori escono dal mercato e detengono poi un quantitativo superiore di stable coin anticipando poi il successivo dump. Quindi può essere utilizzato questo strumento per anticipare il movimento di bitcoin guardando eventuali divergenze. Per cui se adesso dovessimo vedere il prezzo stabilizzarsi e l'indicatore scendere, eventualmente potrebbe essere un segnale di take profit, quindi di uscita dal mercato. Vediamo poi ragazzi quest'altro strumento che abbiamo guardato insieme, che guardiamo insieme spesso, si chiama MVRV Zscore. Questa volta ve lo faccio vedere sulla media mobile dei 50 giorni, quindi movimenti anche qua di lungo termine. Ed è importante perché siamo di recente usciti dalla zona verde, quindi la zona eventualmente di massima opportunità sulla base di questo strumento, esattamente come è accaduto alla conclusione dei precedenti bear mark. Quindi quest'altro, anche questo strumento potrebbe confermarci che eventualmente il bottom, quindi il minimo per bitcoin sia stato raggiunto. Guardiamo poi ragazzi insieme alcuni tweet, questo da parte di Game of Trades mostra come il 2023 sia stato un anno per adesso eccezionale contro sicuramente molte delle aspettative, perché è il miglior anno in cui performa il portafoglio 60-40, vuol dire 60-40, 60 di allocazione in stock, quindi in azioni, e invece 40 di allocazione in bonds, quindi obbligazioni. Ed è nella storia di questo strumento, quindi dal 1920 al 1922, quindi praticamente oltre 100 anni, abbiamo fatto un 48% nel 2023. Quindi la migliore performance addirittura di sempre, con una media di ritorno sull'investimento di un portafoglio simile del 9.5%. Quindi un tipo di allocazione di questo tipo dà origine in media ad un circa un 10% di profitto l'anno. Mentre ragazzi in ultimo guardiamo The Root, che fa analisi on-chain, stiamo arrivando, ci stiamo avvicinando sempre di più all'Halving 2024, quindi più o meno intorno a metà maggio 2024, e siamo più o meno ad un 70% tra il precedente Halving e il successivo. Quindi l'Halving numero 3 e l'Halving numero 4, che arriverà più o meno intorno al 20 di maggio. E come vedete, essendo al 70%, possiamo paragonare quanto accaduto nei precedenti cicli del network di Bitcoin. Quindi abbiamo una fase che ci porterà al prossimo Halving, che storicamente è considerata come una fase non parabolica, per cui la parte rialzista più importante solitamente arriva dopo l'Halving, ma una parte rialzista direi più lenta, più in qualche modo organica. Vedete chiaramente che la parte i sei mesi, o comunque l'anno che vado ad anticipare l'Halving, è di solito un uptrend più organico rispetto all'uptrend che si vede dopo l'Halving. Fatemi sapere cosa ne pensate, grazie per la vostra attenzione, noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao!